buona vigilia di natale buona vigilia di natale buona corsa agli ultimi regali alla preparazione della cena del pranzo ho il cuore bello gonfio perché ho passato la mattinata come tradizione per quello che mi riguarda da tanti anni all'ospedale dei bambini di milano all'ospedale buzzi che vedete alle mie spalle perché ci sono tanti bambini quindi tante mamme tanti papà tanti nonni che sfortunatamente il natale non lo passeranno a casa non lo passeranno in famiglia abbiamo portato un po di doni offerti dai giovani della lega di milano e soprattutto tanti sorrisi mi ricordo ancora il ragazzino a cui abbiamo portato un dinosauro di gomma wow wow e poi i sorrisi di federico di tommaso di camilla bello bello e spero che anche ciascuno di voi riesca a trovare il tempo per qualcuno che altrimenti rischia di essere dimenticato rischia di essere solo rischia di passare un natale senza quella gioia quella amicizia e quella vicinanza e quei sorrisi che costano poco perché per comprare un giocattolo devi spendere qualche euro però un sorriso costa veramente poco quindi ieri pomeriggio con gli alziani della casa di riposo del più albergo trivulzio stamattina con i bimbi dell'ospedale dei bimbi di milano adesso andrò in questura a salutare e ringraziare anche le donne gli uomini della polizia di stato per cui non esiste la vigilia non esiste natale non esiste capodanno sono sempre al nostro servizio e quindi mi piace mi piace donare una parte di quello che voi col vostro incredibile cuore mi state dando in questi mesi di esperienza da ministro e ci tengo anche a precisare qualcosa perché uno legge i giornali o guarda i telegiornali ad esempio lo dico con tutto rispetto per i colleghi giornalisti il tg5 di ieri sera sulla manovra economica pochino fazioso ci siamo abituati e la lega è nata e cresciuta con quasi tutto il mondo dell'informazione contro giornali radio televisioni però fare disinformazione ad esempio sulle pensioni non è un capriccio e un fastidio a salvini non si fa un'opera intelligente se si dice che i pensionati prenderanno di meno perché accadrà esattamente il contrario finito questo live su questa pagina e su twitter e su instagram pubblicherò una tabella con dei numeri molto chiari nessun pensionato italiano nel 2019 prenderà di meno rispetto a quello che ha preso nel 2018 perché uno legge giornali guarda i telegiornali tagli massacri debiti sprechi disastri sciagure ripeto nessun pensionato italiano prenderà di meno nel 2019 rispetto al 2018 a eccezione delle cosiddette pensioni d'oro quelle da 6 7 8 10 15 20 mila euro al mese se non interamente coperte a contributi però il pensionato medio quello da 800 da 1000 da 1300 da 1500 da 1800 euro al mese non prenderà una lira di meno anzi adesso per l'esattezza vi leggo la tabella è questa si vede poco è però ce l'ho sull'altro telefono poi la pubblico la pubblico in pagina perché i numeri fortunatamente sono numeri non sono interpretabili adesso mi appoggio su una macchina appoggio il telefonino e siccome sonia scrive il tg5 di ieri sera è stato scandaloso andiamo avanti abbiamo fiducia elena e sindacati che vogliono fare sciopero dove erano quando hanno fatto la legge fornero lasciamoli parlare lasciamoli parlare perché poi la vita vera è più forte della fantasia delle bugie delle menzogne arriverà la busta paga arriverà la busta della pensione a casa e uno vedrà se ha di meno o se ha di più avere quasi tutto il mondo dell'informazione contro mi dice che stiamo lavorando bene perché questi professoroni questi intellettualoni questi giornalistoni dove erano negli anni passati mentre ci stavano massacrando e derubando quello sì vi ricordate quando c'era monti che era un genio eletta era un genio e renzi era un genio e gentiloni era un genio adesso salvini è brutto e cattivo per quasi tutti vuol dire che stiamo lavorando bene però dicevo i numeri perché i numeri sono più forti di qualunque fantasia allora queste sono le tabelle ve le leggo e poi torno a voi ringrazio melissa ringrazio samanta ringrazio enrica ringrazio antonio di vivo valencia ringrazio valerio ringrazio grazia hai ragione il tg5 di ieri sera mi ha fatto arrabbiare si può cambiare canale e lo dico con tutto il rispetto per il lavoro dei colleghi giornalisti dei giornali delle tv e delle radio se poi uno offre solo una parte della realtà non si lamenti se qualcuno quel giornale non lo compra più o se qualcuno quel telegiornale non lo guarda più ad esempio c'è libero fatemelo dire che ha parlato in un certo modo di me della lega per mesi e adesso perché abbiamo tagliato una parte dei contributi di decine e decine di milioni di euro che vanno ai giornali per usarli in altra maniera adesso per libero io e da qualche giorno che sono un mentecatto un delinquente un troglodista me ne faccio una ragione che leggerò un altro giornale per carità di dio pensate che il quotidiano dei vescovi avvenire prendeva 6 milioni di euro di contributo pubblico all'anno soldi vostri e il manifesto il manifesto il quotidiano comunista il manifesto 3 milioni di euro all'anno ma vi sembra normale io poi non so quanti siano rimasti a leggere il manifesto o avvenire però che in due prendano quasi 10 milioni di euro di contributi pubblici degli italiani non mi sembrava giusto in una competizione se un giornale funziona e valido vende in medicola riccardo dice il tg5 mi ricorda il tg3 magari è stata un'edizione sfortunata poi ripeto io non mi piango addosso perché fortunatamente vivo la vita reale di tutti i giorni stamattina ho parlato abbracciato ringraziato medici infermieri mamme papà e ho trovato solo sorrisi affetto e incitamenti ad andare avanti quindi lasciamo che giornali e telegiornali facciano il loro mestiere in maniera più o meno corretta però ripeto non mi piango addosso e tiro dritto ha ragione stefania ringrazio nello ringrazio angelo maurizio bravo matteo fiducia in te dei tg non mi sono mai fidato e fortunatamente però nel 2018 e anche nel 2019 c'è la rete c'è la libertà della rete c'è la possibilità di informarsi in rete di confrontare le informazioni di confrontare le notizie e di scoprire le bufale vabbè allora dicevamo pensioni 800 euro poi lo pubblico su questa pagina e vi invito a farlo girare in rete per smontare tutte le bufale di qualche politico fallito e di qualche giornalista amico di questo politico fallito che parla di stragi di tagli di riduzioni di povertà di massacro finalmente dopo anni si fa qualcosa di diverso allora chi nel 2018 ha preso 800 euro di pensione prenderà 9 euro in più al mese chi ha preso 1000 euro di pensione prenderà 11 euro in più al mese chi ha preso 1200 euro di pensione prenderà 13 euro in più al mese chi prende 1500 euro di pensione prenderà 16 euro e 50 in più al mese quindi nell'arco dell'anno sono circa 200 euro e poi via a salire 1700 avrà un aumento di 18 euro al mese 2000 euro avrà un aumento di 21 euro al mese 2500 avrà un aumento di 21,2 euro al mese eccetera 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 quindi i nuovi importi saranno per tutti più pesanti perché saranno rivalutate rispetto all'anno precedente quindi nessuno prenderà una lira di meno io la pubblico su questa pagina e poi sono prontissimo a confrontarmi con qualunque giornalista il tg1 il tg5 il manifesto e l'avvenire e il corriere la repubblica il sole 24 ore quello che volete voi però ripeto se fate disinformazione non fate un dispetto a salvini ma non fate un buon servizio agli italiani che poi capiscono poco anche su quota 100 ah ma ho letto che mi taglieranno il 30 per cento della pensione se userò quota 100 che avete messo no no nel 2019 noi daremo la possibilità a più di 500.000 italiani di andare in pensione 1 2 3 o 4 anni prima rispetto alla gabbia costruita dalla fornero senza smenarci una lira senza smenarci una lira ovviamente se uno andrà in pensione a 62 anni invece che a 66 i 4 anni di contributi che non versa fra i 62 e 66 anni non li prende perché sono soldi che non ha versato questo mi sembra ovvio ma prende esattamente quello che gli spetta non una lira di meno invece uno legge a quota 100 massacrata no sono nervosi sono nervosi perché questo è un governo che fa che fa per carità senza far miracoli infatti ieri mi hanno chiesto che voto dalla manovra economica 10 no 7 perché l'inizio di un percorso positivo perché le tasse le abbassiamo per tanti ma non per tutti perché la burocrazia abbiamo iniziato a tagliarla ma non come vorremmo c'è tempo per andare avanti e sul lavoro ci saranno migliaia di posti di lavoro in più per poliziotti medici infermieri ricercatori vigili del fuoco carabinieri insegnanti penso ai 40 mila insegnanti di sostegno per i bimbi disabili che verranno formati e inseriti nei prossimi tre anni e quindi mentre gli altri governi tagliavano e a bruxelles applaudivano mentre gli altri governi tagliavano e a bruxelles applaudivano noi abbiamo iniziato a fare il contrario gianni mi ricorda le accise sulla benzina hai ragione è un mio obiettivo per il 2019 hai ragione non sono riuscito a farlo nel 2018 siamo riusciti a bloccare altri aumenti ad esempio si ipotizzava che in liguria per le ricostruzioni del ponte aumentassero le accise sulla benzina no fermi tutti è già abbastanza cara la benzina in italia e quindi è uno degli obiettivi che mi propongo di portare a casa nel 2019 per questo che non mi do 10 perché come come diceva mia nonna chi si loda si imbroda abbiamo sbloccato il turnover delle assunzioni nella pubblica amministrazione per interi comparti pensate che per la pubblica sicurezza per le forze dell'ordine le assunzioni erano bloccate da quattro anni le abbiamo sbloccate con un piano di assunzioni straordinarie così nella sanità così nella scuola così nella giustizia dove ci sono tribunali sotto organico da anni e anni e anni certo abbiamo fatto tutto e subito no però come dice claudio è mio piacere fare dirette come queste anche mio dovere perché quando uno guarda un telegiornale due telegiornali tre telegiornali e legge un giornale due giornali e tre giornali e dicono l'esatto contrario di quello che è e di quello che sarà e allora il contatto ce lo facciamo direttamente noi con tanti auguri e tanta e tante buone feste ai giornalisti che invece non amano me non amano questo governo adesso per qualche giornalista io ho letto solo negli ultimi due giorni sono umano anzi disumano scusate disumano delinquente razzista fascista per qualcuno addirittura nazista non sono più neanche fascista ma sono diventato addirittura nazista per qualche giornale oggi sono come hitler questo cioè io sono come hitler ma cosa devi avere nel cervello per e sono nervosi perché noi finalmente abbiamo cominciato non finito abbiamo cominciato a fare quello degli altri sui truffati sulle banche ad esempio mi scrive bruno ragazzi il governo precedente disastri e aveva messo lì 100 milioni di euro sapete quanto c'è in questa manovra per i truffati dalle banche che sono tanti e molti di loro magari sono davanti a questo schermo e rischiano di passare un pessimo natale noi non abbiamo messo un milione di euro ci abbiamo messo un miliardo e mezzo di euro un miliardo e mezzo vi ricordate renzi laboschi tutti i casini le indagini le inchieste suicidi fallimenti un miliardo e mezzo di euro l'europa inizialmente diceva non si può sono tanti sono troppi un miliardo e mezzo era e un miliardo e mezzo è rimasto e capite che qualche giornalista si innervosisce perché loro tifano da sempre contro questo governo loro da sempre sperano che noi si vada a casa per tornare alla vecchia politica ai favorini ai favoroni a questa lobby a questo potere forte a questa associazione no basta ripeto siamo persone normali poi gli errori li facciamo come tutte le persone normali però sono orgoglioso di quello che sia riusciti a fare in questi sei mesi di quello che faremo nei prossimi quattro anni e mezzo grazie a voi sicuramente non grazie ai poteri forti di questo forti forti si è visto abbiamo quasi tutti i giornali e le televisioni contro ma siamo qua c'è un governo che fa la lega il primo partito io vi ringrazio di cuore non per me ma per il sacrificio e l'impegno di tanti che gli italiani riconoscano in matteo salvini una persona concreta coerente onesta e se i telegiornali dicono altro chi se ne frega ma poi quando vi arriverà la pensione a casa nel 2019 sarete voi a valutare se prendete di più o so prendete di meno se prenderete di più e allora aveva ragione matteo salvini se prenderete di meno aveva ragione i disinformatori di professione però siamo sotto natale io devo fare ancora 45 regali lo dico sottovoce ringrazio gaetano ringrazio caterina ringrazio sana ringrazio anastasia ringrazio angela ringrazio luca ringrazio rita anche sulle pensioni minime si sta intervenendo perché nel reddito di cittadinanza ci sono interventi per i pensionati al minimo per i disabili per i disabili sempre dimenticato da tutti e da tutti siamo intervenuti per dare sgravi fiscali ai cani guida per ciechi per dare assistenza scolastica e trasporti a scuola ai ragazzini disabili cosa che ogni anno era un casino e abbiamo cominciato ad aumentare non tutte non tutte abbiamo qualche altro anno davanti non tutte parecchie pensioni di invalidità che erano ferme da troppo tempo giuli sono una piccola partita iva con un negozio da 30 anni dopo una guerra contro ti ringrazio tantissimo ricordiamo che le partite iva che fatturano fino a 65 mila euro pagheranno solo il 15 per cento dall'anno prossimo di tasse basta solo il 15 non una dire in più e questo è qualcosa che dà ossigeno da speranza da voglia da energia a tanti e tanti italiani alessandro dice segnaliamo a facebook quelli che offendono il ministro ma chi se ne frega alessandro dai un buon natale anche a loro un bacione anche a loro quelli che vengono su facebook su instagram su twitter e me ne dicono di tutti i colori ma mi fanno sorridere mi danno gioia mi mettono allegria tranne quando minacciano e poi magari se la prendono coi bimbi ecco quelli che se la prendono coi figli sono veramente dei mentecati con quelli mi arrabbio io per gli altri va bene va bene così dai ringrazio la vigna ringrazio flavio ringrazio angiaudo ringrazio marco che dice lasciali parlare contano i fatti esatto la vita vera i fatti come sull'immigrazione centomila sbarchi in meno vuol dire tanti problemi in meno vuol dire occuparsi meglio dei profughi veri e vuol dire difendere anche la sicurezza il diritto alla sicurezza degli italiani stamattina mi hanno detto che un prete un prete della provincia di pisa ha messo gesù bambino nella spazzatura già un prete che mette gesù bambino nella spazzatura ha dei problemi e dovrebbe pensare alla sua missione salvifica no l'ha messo nella spazzatura per protestare contro salvini contro le ruspe contro il decreto sicurezza ma buon dio è la vigilia di natale il giorno della festa è il giorno della gioia della serenità della fratellanza dell'amicizia della nascita del futuro dei bambini e la festa dei bambini e c'è un prete che mette gesù bambino nella spazzatura ma tu non stai bene amico mio tu non stai bene perché poi non è che tu faccia un torto a salvini tu fai un torto ai tuoi parrocchiani e soprattutto ai bimbi a cui stai rovinando la festa più bella del mondo questo vale per le maestre che hanno tolto i canti di natale per quelli che non hanno fatto fare il presepe ieri ho visto che in piazza duomo a milano c'erano dei bizzarri personaggi che hanno portato un gommone un gommone al posto del presepe davanti al duomo un gommone io sono orgoglioso di aver ridotto le partenze gli sbarchi e il numero dei morti perché il numero di morti nel mar mediterraneo coi governi accoglienti buonisti solidali e generosi di sinistra era più alto rispetto al numero di morti che fortunatamente si è registrato quest'anno in diminuzione con quel cattivone di salvini ancora troppi il mio obiettivo è che quei bimbi e quei ragazzi e quelle donne non siano costretti a scappare dal loro paese abbiano un futuro di lavoro serenità e famiglia nel loro paese senza attraversare deserti o mari arricchendo gli scafisti che poi con quei soldi ci comprano droga e armi quindi son contento perché le politiche razziste egoiste fasciste salvano vite e i soldi li stiamo spendendo in africa ad esempio in ghana con 6 euro al giorno in ghana si permette a un ragazzo di mangiare dormire e studiare mentre i compagni mentre il pd preferiva spenderne 35 in italia magari per arricchire questa o quella cooperativa l'abbiamo visto in giro per tutta italia quanta gente ci straguadagnava truffando grazie a un'immigrazione fuori controllo ragazzi nel nostro paese entra chi ne ha diritto chiedendo permesso per favore dicendo grazie entra chi ne ha diritto chiedendo permesso per favore e dicendo grazie è una cosa così fascista nazista e razzista no è una cosa giusta è una cosa equa quindi sono assolutamente sereno tranquillo anche stamattina mi è arrivato da un don da un paraco di milano una medaglietta con l'immagine della madonna grazie perché penso di non star facendo cose geniali di non far miracoli ma di star facendo cose giuste che partono dalla testa e dal cuore nell'interesse di chi vuole vivere in questo paese ringrazio dino ringrazio riccardo ringrazio viviana ringrazio lidia ringrazio federica ma lasciatelo perdere il prete lì ringrazio antonello in sardegna la sinistra sta facendo un buco economico spaventoso prima le regionali ringrazio luisa ringrazio enrica ringrazio luisella ringrazio giovanni ringrazio tutte le donne a cui ad esempio portiamo in dote una battaglia contro il femminicidio vera con la legge sul codice rosso che prevede che entro tre giorni da denuncia di molesti o di aggressione il giudice debba intervenire non dopo mesi perché le donne attaccate molestate aggredite violentate non si salvano con le chiacchiere coi convegni con le trasmissioni si salvano coi fatti con gli atti con gli interventi concreti eccolo qua eccolo qua grazie in molti mi state chiedendo fanne più spesso di dirette magari in questi giorni di natale dove c'è qualche minuto in più per respirare per riposare ci sentiremo più spesso vi va vediamo se ci sono dei sì ci torno se invece mi dite no lascia perdere lasciaci riposare lasciaci tranquilli almeno in questi giorni faccio un passo indietro ringrazio luisella ringrazio andrea ringrazio alessandro ringrazio rosa ringrazio daniela fate paura ecco perché vi attaccano in tutti questi anni siamo stati schiavi dell'europa danni carlo claudia enza e bube e mi piacerebbe che i giornalisti leggessero leggessero quello che gli italiani veri anche immigrati regolari e ce ne sono tanti immigrati regolari in italia che portano rispetto portano cultura portano ricchezza portano amicizia grazie io non distingo gli esseri umani in base al colore della pelle distingo gli esseri umani in base al fatto che siano brave persone o pessime persone che rispettino le leggi o non rispettino le leggi l'italia è un paese aperto per chi soffre scappa dalla guerra ma è un paese assolutamente chiuso per quelli che la guerra ce la portano in casa vedo una serie di sì graziano marco lucio manuela gianni anto gaetano dai ci sarà un po più spesso perdonatemi ma sono stati mesi di lavoro come tanti di voi e 13 14 15 16 ore al giorno in giro per l'italia in giro per l'europa in giro per il mondo decreto sicurezza abbiamo preparato ormai pronta per essere approvata la legge sulla legittima difesa la manovra economica che finalmente restituisce invece di togliere restituisce qualcosa agli italiani invece di portarglielo via nel nome della finanza dell'europa dello spread delle multinazionali e quindi sono stanco non so se si vede ma felice alle mie spalle gente che dà l'anima che lavora medici infermieri e volontari ecco chiudo con questa riflessione e poi non vi tolgo altro tempo perché la vigilia per tutti ringrazio coloro che lavorano anche in questi giorni di festa medici infermieri poliziotti taxisti vigili piloti dipendenti delle ferrovie gli autisti degli autobus i pasticceri i baristi i ristoratori anche i professionisti della televisione del cinema insomma tutti e soprattutto ringrazio coloro che il lavoro lo troveranno magari l'anno prossimo in piccola parte grazie anche a noi a questa manovra economica questi nuovi decreti a queste nuove leggi alessandro ringrazia il governo a nome di tutti i lavoratori del comparto balneare abbiamo sospeso la direttiva bolkestein che metteva a rischio il lavoro di centinaia di migliaia di ambulanti dei mercati e di lavoratori delle spiagge italiane sospesa sospesa gli altri governi per anni hanno chiacchierato di salvare i mercati gli ambulanti e gli stabilimenti balneari fatto c'è l'inizio della pace fiscale per gli isee fino a 20.000 euro si rottamano le cartelle di equitalia per carità ripeto è l'inizio di un percorso non facciamo miracoli quelli li facevano monti e renzi noi non siamo bravi come come monti e renzi facciamo passo dopo passo cose che riteniamo giuste e utili alla rinascita di questo paese domani è il giorno del natale della nascita ecco che sia un periodo di rinascita e se voi ci siete non ci ferma nessuno possono usare tutti i telegiornali che vogliono le radio che vogliono i giornali che vogliono la disinformazione che vogliono i sindacati che vogliono se ci siete voi non ce n'è per nessuno e quindi saluto ringraziando tonia gian carlo marilena massimo rosa e tutti non riesco a farlo con tutti ma questo bacione questo abbraccio questo grazie di cuore enorme che viene dalla testa ma viene soprattutto dal cuore per quello che mi permettete di fare senza di voi io non farei nulla noi non saremmo nulla questo è un governo che non ha padrini e padroni e ha intenzione di andare avanti solo e soltanto per il bene degli italiani grazie grazie e ancora grazie